è sempre bello il mare ma torneremo in città principe? sarebbe solo per una notte guarda 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 no 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 era lei era lei era lei appena ha saputo che forse torniamo guarda che vengono a trovarci appositamente al mare guarda guarda che ha la sportina per i vibratori guarda 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 te lo ricordi quello? si è una delle giovani promesse della squadra di pronto cagate rosso ma lei ascoltava pronto cagate rosso negli anni 80 ha seguito i tempi della radio mi pare di ricordarsela prima di che raccogliessi i vibratori allora lei mi fa una gentilezza mi guarda in telecamera ma con aria seria anche lanciando le conchiere che fanno il piano e mi dice senza paura poi le raccogliamo perché con la chiatica la capisci lei liberamente guarda in camera e dice lunedì 13 maggio su radio bologna 1 torna solo per una notte pronto cantati addosso vada tranquillo senza paura lunedì 13 maggio torno pronto campo cagati addosso cantati addosso bravissimi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti